Ciao, sono Fabio Cagliazzo, direttore generale del Centro Nazionale Sportivo Libertas. L'Associazione Nazionale Libertas si occupa di promuovere lo sport di base in tutta Italia. Lo scopo fondamentale è quello di aggregare bambini, ragazzi, adulti, adolescenti nella pratica dello sport. Ci troviamo in questo tavolo per poter dare il nostro contributo. Abbiamo creduto e crediamo ancora quotidianamente nel poter tutelare i bambini nella pratica dello sport perché purtroppo gli abusi esistono. Abbiamo creato un coordinamento nazionale che è l'Osservatorio contro le devianze sociali, contro il bullismo e il cyberbullismo. Esistono tre parole chiave per poter avvicinare i giovanissimi nel mondo dello sport. La prima è l'inclusione, la seconda è il benessere e la terza è la contaminazione. Le tre parole chiave per gli adulti sono innanzitutto il senso di appartenenza, la fiducia e soprattutto la sicurezza. Battiamo il silenzio perché è arrivato il momento di aprire il sipario. Quindi dobbiamo necessariamente portare a conoscenza della comunità sportiva che non possono esistere devianze, vizi che possono pregiudicare la crescita delle future generazioni. Battiamo il silenzio!